Musica Benvenuti Questa è la seconda stagione del TGIGABG Lo studio è diverso Sì, molto diverso La prima stagione ormai è finita E mi sono scordato perché doveva uscire il 22, vabbè La prima stagione è finita Adesso è arrivato il turno della seconda Quindi La prima stagione si abbandonerà Tra pochi giorni uscirà il tour dello studio Anche se è molto piccolo Da Grimov è tutto Ciao Musica 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 Musica